come prevenire o il morbo di Alzheimer dell'AE. La malattia di Alzheimer, AD, è una malattia cronica, progressiva degenerativa del cervello che rompe e alla fine distrugge le cellule del cervello e neuroni che collegano le cellule cerebrali l'uno all'altro. La malattia di solito inizia lentamente e peggiora nel tempo. Si tratta di una forma comune di demenza, che porta a un calo della memoria, il comportamento e le capacità mentali. Secondo l'Associazione Alzheimer, il morbo di Alzheimer rappresenta il 50 all'80% dei casi di demenza. Gli esperti non si conosce la causa esatta della malattia di Alzheimer. Tuttavia, tre principali fattori di rischio sono l'età, storia familiare e genetica. Inoltre, le donne possono essere più probabilità di avere il morbo di Alzheimer rispetto agli uomini. Inoltre, le persone con decadimento cognitivo lieve e trauma cranico passato sembrano avere un rischio maggiore di sviluppare esso. I primi sintomi della malattia di Alzheimer sono memoria e di richiamo difficoltà. Con il tempo, la gente inizia ad avere problemi con la comprensione, conversazione, lettura, scrittura e l'esecuzione di attività giorno per giorno. Le persone con AD possono anche sperimentare la depressione, l'ansia, sbalzi d'umore, irritabilità, un cambiamento nelle abitudini di sonno, ritiro sociale e sfiducia negli altri. Non esiste una cura per l'AD. Tuttavia, se si è a rischio di sviluppare questa malattia, è possibile prevenire o rallentare la sua progressione con i cambiamenti dello stile di vita, cambiamenti nella dieta e rimedi domestici semplici. Queste misure funzionano meglio se usati precocemente nel corso della malattia. Ecco alcuni modi per prevenire o ritardare la malattia di Alzheimer. Olio di cocco. L'olio di cocco può aiutare a prevenire a dei altri problemi cerebrali. Malattia, olio di cocco di Alzheimer attena gli effetti sui neuroni corticali in vitro. Peptide asino è una delle componenti che contribuiscono a questa malattia. Inoltre, i trigliceridi a catena media in aiuto olio di cocco ripristinare il rivestimento dei nervi e migliorare le prestazioni cognitive. Per la salute generale del cervello, utilizzare solo biologico, spremuto a freddo, non idrogenato olio vergine di cocco. Mangiare uno o due cucchiaini di organico, pressato a freddo olio vergine di cocco, due volte al giorno su base regolare. Inoltre, includono olio di cocco nei vostri prodotti da forno, insalate e frullati. La vitamina B12. La vitamina B12 aiuta a sostenere il funzionamento neurale nel corpo e la sua carenza può causare diversi segni e sintomi, tra cui la perdita di memoria. Prendendo la vitamina B12 in assenza della sua mancanza, tuttavia, non può migliorare la memoria nei pazienti di Alzheimer. Mangiare cibi ad alto contenuto di vitamina B12, come carne, pesce, pollame, uova, latte, formaggio, fagioli secchi, avocado, cereali fortificati e latte di soia. Si può anche prendere un supplemento di vitamina B12, dopo aver consultato un medico. Cannella. Cannella è anche efficace nel prevenire o ritardare i sintomi di ADD. La malattia di Alzheimer ha scoperto che un estratto acquoso di cannella di Ceylon ha aiutato inibisce l'aggregazione di tau e la formazione del filamento, due caratteristiche della malattia di Alzheimer. Cannella facilita anche il flusso di sangue al cervello, così come il miglioramento della memoria e riconoscimento. Inoltre, aiuta a controllare i livelli di zucchero nel sangue nelle persone con diabete, uno dei fattori di rischio per il morbo di Alzheimer. Mettete la cannella nel tè, toast, cereali, farina d'avena, prodotti da forno, macedonia di frutte e frullati. Si può anche prendere la cannella in forma di supplemento. Consultare sempre un medico per il corretto dosaggio. Nota, non prendere la cannella in eccesso come può essere tossico per il fegato. Mandorle La vitamina E può rallentare la progressione del morbo di Alzheimer e mandorle sono una buona fonte di alfatocoferolo vitamina E, la forma di vitamina E che il corpo assorbe e utilizza migliore. Inoltre, gli acidi grassi omega 3 a mandorle aumentare la memoria. Mandorle supportano anche un sistema nervoso funzionante. Che a sua volta controlla le funzioni cognitive. Mangiare uno oncia o una piccola manciata di mandorle tostate a secco ogni giorno per aiutare a prevenire AD. Un'altra opzione è quella di mangiare da 8 a 10 mandorle bagnate e sbucciate a stomaco vuoto quotidiana. Curcuma. La curcuma contiene un composto chiamato curcumina con benefici antiossidanti e antinfiammatorie che aiutano a distruggere le placche di beta-amiloide e rallentare la progressione della malattia di Alzheimer. La curcuma può anche migliorare il flusso di sangue al cervello, che è importante per la funzione cognitiva. Bere un bicchiere di latte curcuma, noto anche come il latte dorato, ogni giorno. Per preparare questo latte, semplicemente far bollire 1 barra 2 o 1 cucchiaino di curcuma in polvere in una tazza di latte. Addolcire con miele grezzo e poi berla. Inoltre, aggiungere la curcuma nella vostra cucina per mantenere il cervello acuto per anni. Nota, la curcuma potrebbe non essere adatto per chi soffre di calcoli biliari e ostruzione delle vie biliari. Omega 3 acidi grassi. Prendendo acidi grassi Omega 3 può essere un potenziale trattamento alternativo per l'ADD. Acido docosaesaenoico, da, un tipo di acido grasso Omega 3, può aiutare a prevenire lo sviluppo della malattia di Alzheimer in quanto potrebbe rallentare la crescita delle lesioni cerebrali che sono due caratteristiche di questa malattia neurodegenerativa. Chiedere acidi grassi Omega 3 nella vostra dieta mangiando pesce grasso, noci, semi di lino, fagioli, olio d'oliva e zucca invernale. Prendere Omega 3 integratori di acidi grassi, contenenti almeno 600 mg di da, tutti i giorni. Per un corretto dosaggio e idoneità, consultare il medico. Goseberry indiano. Uva spina indiana, conosciuta anche come LRD, può aiutare a prevenire e ritardare l'insorgenza di ADD. Questo frutto può affrontare beta-amiloide, la placca neurale associata con la progressione di questa malattia. Inoltre, essendo ricco di vitamina C e altri antiossidanti potenti, nutre il cervello e migliora il funzionamento mentale. Si tratta di un buon cervello e del nervo tonico e aiuta a migliorare il sistema nervoso centrale. Per incrementare le capacità intellettuali, prendere uno a tre cucchiaini di polvere di amlacon o senza acqua due volte al giorno. Si può anche mangiare questo frutto in forma grezza o succo di frutta. Ashwagandha. Ashwagandha, detto anche ginseng indiano o vitania somnifera, è un bene per il tuo cervello. Ashwagandha ha avuto un effetto positivo nel test di performance cognitiva e psicomotoria tra i partecipanti sani. L'erba influenza tutti gli aspetti delle funzioni cognitive come messa a fuoco, il pensiero, la concentrazione e la memoria. Inoltre, con l'aiuto di meccanismi antiossidanti e antinfiammatori modulante, Ashwagandha può agire preventivamente, per le malattie neurodegenerative come il morbo di Alzheimer. Per proteggere il cervello da ADD, iniziare a prendere un supplemento di Ashwagandha, ma solo dopo aver consultato il medico. Brami. Brami, noto anche come Monnieri Bacopa, lavora come tonico del cervello e ha effetti antiossidanti e neuroprotettivi. Può contribuire a migliorare la funzione cognitiva nei pazienti anziani e nelle persone con malattie neurodegenerative come il morbo di Alzheimer. Consumare una o due cucchiaini di succo estratto dalle foglie di Brami due volte al giorno. Si può anche prendere questa erba in forma di supplemento dopo aver consultato il medico. Esercizio. Regolare esercizio fisico può aiutare a prevenire il declino cognitivo e ADD. La malattia di Alzheimer, regolare esercizio fisico esercita un effetto positivo neurofisiologico che aiuta a mantenere la normale attività cerebrale negli anziani. Una volta fatto su una base regolare fin dall'infanzia, l'esercizio fisico riduce il rischio di sviluppare demenza o morbo di Alzheimer più tardi nella vita. Godetevi camminare a ritmo sostenuto su erba per un minimo di 30 minuti, almeno 5 volte a settimana. Godetevi nuoto, jogging, corsa, ciclismo, trekking e attività simili, un paio di volte a settimana. Ulteriori suggerimenti. Per ridurre il rischio di malattia di Alzheimer, optare per un lavoro stimolante e trascorrere del tempo in attività mentalmente stimolanti, come la lettura, giochi o suonare uno strumento musicale. Una vita sociale sana può anche aiutare a prevenire l'insorgenza di questa malattia. Mangiare più frutta e verdura ricchi di antiossidanti. Evitare le diete ad alto contenuto di grassi e sostituire i grassi saturi nella dieta con grassi sani. Evitare alcol e fumo di sigaretta. Evitare cibi trasformati e metalli inquinanti come l'alluminio e il mercurio. A pochi minuti di esposizione al sole del mattino prevede quotidiano di vitamina D che può anche contribuire a migliorare la funzione del cervello. I familiari e gli amici dovrebbero cercare le opzioni per la creazione di una migliore qualità della vita per le persone con AD.